Temporeale Buongiorno caro Andrea Polazzi Te lo ricordi il 5 maggio? Secondo me la gente si ricorda più il 4 maggio Quest'anno però è che è una poesia nuova Pensata proprio Insomma in questo periodo Però il 5 maggio chi la scrisse? Alessandro Dai, lo so che lo sai Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati Un nuovo appuntamento con Temporeale Non è un programma di Marzullo E neanche un programma di Storia Insomma dell'Ottocento Per cui siamo pronti a partire invece Con l'attualità, puoi parlare adesso Non ti chiederò più nulla, ma non ti ho chiesto niente Allora Intanto ringraziamo tutti coloro che danno la loro Assistenza tecnica, morale E contenutistica a questo programma Il nostro Matteo Monaretto, la nostra Marissa Manfredi Che sono già in postazione Perché? Perché ogni mattina Cerchiamo di raccontare che cosa Succede, 337 511 336, questo Il numero per i vostri sms Diciamo che fino a ieri Tante sono state le domande Anche i dubbi su che cosa posso fare Che cosa non posso fare Oggi tutto è chiaro? Probabilmente no Molti di questi dubbi permangono Vediamo E quindi c'è ancora qualcuno Che effettivamente ci fa delle domande E le risposte rimangono un po' così a mezz'aria Però se volete potete utilizzare Questo numero di messaggistica Anche per dirci come Gabriele ci scrive che gli interisti Ricordano bene il 5 maggio Quello del 2002 Io non sono preparata su questo Vedi? Vabbè Altri 5 maggio E comunque la possibilità Anche di scriverci Come avete vissuto Il 4 maggio Cioè l'inizio Della fase 2 Siete stati tra coloro Che hanno approfittato Di qualche possibilità Sono andati a fare una passeggiata Sono andati in un parco Hanno camminato Per lungo tempo Hanno preso la bici E sono andati a farsi Un giro in collina Oppure avete continuato Come gli altri giovani Siete tornati a lavorare Se volete 337-511-336 Ma poi se ce lo volete raccontare Con più elementi E con più particolari 0541-785-785 Il nostro numero di telefono Come vi dicevo Vi risponde Melissa E se volete Potete anche Entrare in diretta con noi Anche per recitarci Il 5 maggio Se volete Anche quello del 2002 Se volete Anche no Anche no Allora iniziamo proprio Dalla fase 2 Perché tu ieri Finita la trasmissione Hai pensato di andarti A fare un giro Sì D'altra parte C'era la possibilità In questi due mesi L'unico tragitto Che ho fatto È stato Casa mia Qui Tra l'altro Incontrando Tra l'altro Stamattina C'erano ancora I controlli Tra Rimini e Riccione Vabbè Comunque Proseguiamo Ieri mattina Sì Sono andata a fare un giro Per vedere L'inizio della fase 2 Per vedere appunto Il giorno 1 Della fase 2 Ti dirò Che Perché ci sarà Un nuovo calendario No Non c'è più Il calendario Giuliano No C'è un calendario diverso Vabbè Allora L'Italia riparte Senza caos Leggo questa mattina Sulle pagine del Corriere della Sera Quindi a livello nazionale Ricordiamo che Non solo Nel nostro territorio Ma in tutta Italia C'è stata la ripartenza Anche se devo dire Che le regioni Non sono state tutte uguali Alcune sono entrate In lockdown Più tardi Rispetto ad altre regioni Come la nostra Come la Lombardia Il Veneto E altre E questo è il titolo appunto Quindi un'Italia Che tutto sommato Si è comportata responsabilmente Nel nostro territorio Come è andata Beh è chiaro che Ieri Uscendo da qui Ho immaginato Che tutti coloro Che fossero a passeggio La maggior parte Insomma O a piedi O in bicicletta Nei parchi E quant'altro Avessero con sé L'autocertificazione In cui scritto Finalmente sono uscito Per farmi una passeggiata Caos Non è che c'era Non è che c'era una festa Tutti insieme Però Diciamo che Qualcuno Ha approfittato Probabilmente per parlare Non so Con un conoscente Che ha incontrato per strada Ho notato che molte persone Avevano comunque la mascherina Ricordiamo che Non è obbligatoria Per strada Ma è obbligatoria Nei posti chiusi E in quelli all'aperto Nei quali non sia possibile Mantenere la distanza Di sicurezza Diciamo che Alcuni gruppi Di persone Che si sono incontrate Per fare due chiacchiere Non tutti avevano la mascherina Qualcuno sì Qualcuno no Forse quindi si pensa Che possa essere l'altro A proteggerci Io direi che Nel caso Una mascherina Me la porterei sempre dietro Siamo andati a vedere Siamo partiti da Perché sorridi? Perché Stefano ci chiede Se Manzoni e Napoleone Erano congiunti Non so Adesso dobbiamo indagare Vedere fino a che grado Esatto Fino a che grado Di parentela Forse sì Non si sa mai Ci sono incontrati Per un picnic Sul lago di Como Basta Finiamo la questa mattina Con la storia Esatto Anche perché Altrimenti io me ne vado Veramente Invece sentiamo E vediamo Per chi ci segue in tv E sui social Le immagini di questa Rimini Nel primo giorno Della fase 2 Sentiamo anche Le voci Di alcuni riminesi Che ieri hai fermato Ma il tutto parte Da un tuo Detto in termini tecnici Stand up Nel centro della piazza Wow Piazza Tremartiri Sono da poco passate Le 12 Vediamo Una piazza Decisamente diversa Da quella Di soli pochi giorni fa Molte più persone in giro Possiamo dire Che anche per Rimini È iniziata La fase 2 Mi sono stancato Di stare chiuso In casa Io sono anziano Però Non sono stupido Perché io andavo Anche a ballare Prima Questa mattina Ho portato il cane A spasso nel parco Bisogna andare a ricominciare A un certo punto Quindi Sperando che Che la gente Abbia un po' Di testa Che attivi L'app neuroni E non L'app immuni Almeno Tornata alla vita Come prima Io la desideravo Preoccupato come tutti Adesso abbiamo Queste due settimane Che sono la prova Della verità Credo che siamo Abbastanza grandi Per poterci regolare Senza bisogno Di tante leggi E di vieti Siamo abbastanza intelligenti Donato il sangue E bevuto un caffè Ero a casa A farmi i miei modellini Di navi Barche Barchette E via Sono divertito così Il tempo è volato Vedete quanto hai visto Avanti Alberghi Apro Come fanno aprire Un albergo Se gli capita Una latta Dentro sull'albergo Scusa È un bel caos Siamo ripartiti Da oggi Con l'asporto Cercando di fare Il pranzo E l'aperitivo E abbiamo avuto Qualche cliente Affezionato Che è venuto a trovarci Positivo al massimo Cercheremo Di dare un altro servizio Che secondo me Potrebbe venire Buono anche Per un futuro È stata molto Molto dura Infatti lui Poverino Chiedeva Dell'asilo Di andare al parco E noi sempre Magari spieghiamo Le cose Per il senso Di dirlo Guarda che c'è la bua In giro È stata veramente dura Però dai Alla fine ha preso Anche l'abitudine Poi dobbiamo stare Più attenti Eh sì Non si sa mai Capito Se si scoppia di nuovo Questo virus Vado giù fino al porto Quindi 5 per 2 10 10 chilometri Fondolentissimo Più per godersi Il panorama Riconquistato Finalmente Piuttosto che per fare La prestazione Adesso ci interessa Stare bene Stare distanti dagli altri Stare isolati E Tornare a divertirsi Sono andato a vedere Il mare Ho fatto delle foto Le ho inviate Agli amici Che Non sono qua Di Rimini E gli ho detto È come essere alle Maldive Un'acqua stupenda Bellissima Gli stessi colori La prima volta che escono Vedevo l'ora Comunque la libertà Ciao Ciao a tutti Insomma runner Abbiamo spesso qualche timore Su alcuni atteggiamenti Anzi più tardi in mattinata Tra una decina di minuti Parleremo con uno di loro Con Filippo Giorgetti Sindaco di Bellaria E Giammarina Che proprio ieri sera È intervenuto Con un post Per richiamare Alla responsabilità I suoi concittadini Insomma ci sono tutta una serie Di elementi Da valutare L'altra Una delle altre aperture Che era tanta attesa Era quella Dei cimiteri Che in molti comuni Della nostra provincia Sono stati riaperti Proprio nella giornata di ieri Non in tutti E quindi questo ha creato Anche un po' Come sempre Qualche dubbio Ma anche qualche polemica Però io direi Prima delle polemiche Che insomma ci stanno Col caffè del mattino Però non esageriamo Altrimenti ci vanno di traverso E andiamo proprio al cimitero È andato il nostro Maurizio Ceccarini Nel primo pomeriggio di ieri Perché insomma Per tante persone Appunto questa visita I congiunti È comunque di grande consolazione Ma anche insomma Una necessità Non direi solo Un piacere E noi siamo andati Al cimitero monumentale Di Rimini Ricordiamo aperto Con dei tempi Un pochino ridotti Più che i tempi Credo siano gli ingressi Ecco gli ingressi Contingentati Insomma c'è un po' Di attenzione Si passa solo Dall'ingresso monumentale Gli altri due sono chiusi Quindi non accessibili Ci sono dei percorsi Di entrate e di uscita Tre congiunti Per defunto Possono entrare Insomma questa è più o meno La situazione E allora noi siamo andati A verificare Insomma anche come Le persone Tornano In questi luoghi Che da tante settimane Erano rimasti chiusi E ve lo raccontiamo In questo servizio Un momento atteso a lungo Per portare un saluto Più da vicino Ai propri cari Ma anche per sistemare Fiori e arredi Che risentivano Inevitabilmente Della lunga chiusura La visita ai cimiteri È uno dei motivi Che permettono Di uscire dalla provincia Ai singoli comuni È lasciata la possibilità Di definire le modalità Generalmente obbligatorio L'uso della mascherina E dei guanti Da rispettare La distanza Di almeno un metro E il divieto Di assembramento Problemi che Negli ampi spaffi Del cimitero monumentale Di Rimini Oggi non si sono posti I miei genitori Qui Non è più venuto Nessuno Da due mesi Quindi siamo andati A vedere un po' Che fosse tutto a posto Ma va bene A parte che non c'è Moltissima gente Ci sono un paio Di funerali Però Lo spazio c'è Insomma La sicurezza c'è Io Ho unito L'attività sportiva Così Abbiamo tutti La mascherina Quindi Mi sembra Abbastanza tranquillo Poi non c'è Così Così tante persone Si gira bene Insomma Oggi è il primo giorno Di apertura E avevo piacere Di venire A dare un saluto Ai miei cari E Io e la mia famiglia Si siamo Siamo venuti qua Appena abbiamo avuto L'opportunità Adesso ci sono Alcune cose da sistemare Che nei prossimi giorni Faremo Però Ci sembrava Doveroso Portare un saluto A coloro Che ci hanno Aiutati Ad essere Ad arrivare Fino a qua Sono la tomba Di famiglia Per cui siamo Vengo a trovarli Dopo tanto tempo Di chiusura Siamo qua Speriamo Duri poco Questa Questa situazione Ecco Ci dispiace Per i familiari Delle persone Che sono morte A causa A causa O anche In conseguenza Di questo virus E siamo vicini A tutte queste persone Che non ce l'hanno fatta Ecco E forse anche Pensando al luogo Appunto dove si trovavano Nel fatto che tante persone Non hanno potuto salutare Come avrebbero voluto I loro cari Questo saluto Ultimo Che anche emotivamente Insomma nel cammino Dell'allaborazione Del lutto È così importante Non c'è stato Poi probabilmente Ci sarà la possibilità Di recuperare Ma non è la stessa cosa Fare Non so Una messa Di un funerale Dopo due mesi Che è scomparsa La persona A cui volevi bene Comunque per noi Era importante Anche andare In questo luogo Tornando al primo servizio Andrea Solo un attimo Perché credo Che sia interessante Ieri lo abbiamo visto Anche in alcune interviste Realizzate Alcune realtà Del centro storico Anche se era già possibile Dalla settimana precedente Hanno riaperto Un po' i battenti In questa modalità Insomma Per cui sono chiusi C'è un tavolino Davanti alle porte D'ingresso Ma c'è la possibilità Di prendere da sporto Chi l'aperitivo Chi un caffè Quindi qualcuno È tornato finalmente A prendere il caffè Al bar Non nella modalità In cui forse Ama farlo Quindi ho visto persone Ancora ci sono dei bar chiusi Perché probabilmente Hanno deciso Di rimanere chiusi Sono persone sedute Sui tavolini davanti Così una sorta di attesa Ancora che deve Deve aspettare Altri invece Ci stanno provando Per cui non è semplice Perché insomma Probabilmente Non è il modello Del prendere di caffè Che ci piace Che piace anche agli italiani Che se lo sorseggiano Leggendo il giornale Facendo due chiacchiere Però insomma Piano piano ci si abitua Come ci si abitua Probabilmente Vi abituerete Se malauguratamente Ci incontrate A trovarci in giro A trovarci in giro Con un'asta lunga Praticamente due metri Con un microfono Attaccato davanti Per rimanere A debita distanza Dalle persone Impareremo noi Insomma comunque A cogliere La capacità anche Di relazione Delle persone Anche sotto la mascherina Quindi a sentire più la voce Che non a vedere I sorrisi Però insomma È una fase Che possiamo Adattare anche A questo periodo Con grande attenzione Perché diciamo Che ieri È vero Che i quotidiani Ci dicono Sì l'Italia Senza caos Insomma anche noi Siamo andati in giro Sì c'era tanta gente Ma insomma Comunque Accettabile Diciamo così Però c'è qualcuno Che invece è molto Preoccupato Di come Gli Emiliano Romagnoli Hanno ripreso Questa Periodo Che sarà di convivenza Con il virus Ricordiamolo sempre Andrea Perché ieri pomeriggio Diciamo che Il nostro commissario Venturi Probabilmente Il nostro commissario Ricordiamo che Non ha Nel nostro Nel senso che Noi essendo Emiliano Romagnoli Ma commissario Perché quindi È in polizia No 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 È un commissario Nel senso che Commissario per l'emergenza Esatto Gli è stato dato Questo compito Dal presidente Bonaccini Quasi ad inizio emergenza Soprattutto dopo che Si era ammalato L'assessore Dunini Competente Quindi insomma Ha lasciato questo incarico Venturi che do per 3-4 giorni E ieri probabilmente A Venturi Sono arrivati dei video Da diverse città Delle Emilia Romagna Che lo hanno fatto saltare Sulla sedia Quindi ha fatto un forte Richiamo alla responsabilità Oggi Venturi Lo abbiamo diviso in due parti La prima parte Ce l'andiamo ad ascoltare Adesso Poi dopo ascolteremo Successivamente Richiamo alla responsabilità Per evitare Un passo indietro Ad una situazione Che sarebbe a questo punto Ancora più complicata Allora sentiamo Le parole di Venturi Oggi Molto più Che nella prima fase L'epidemia è nelle nostre mani Abbiamo bisogno Di essere tutti responsabili E di fare in modo Che le nostre azioni Non comportino Una ripresa Della Della crescita Dei casi Perché sarebbe Una ripresa Che veramente Ci metterebbe in ginocchio Da tutti i punti di vista E quindi Abbiamo bisogno Della responsabilità Di ognuno Specialmente adesso Che la responsabilità È davvero determinante Per non ricadere In numeri In lutti E Anche In Conseguenze Di carattere economico Che sarebbero devastanti Per tutti Non soltanto Per quelli Che sono tornati Oggi al lavoro Ma anche per quelli Che hanno una pensione Oppure quelli Che hanno un lavoro pubblico Ricordiamocelo questo Dobbiamo far tutti In modo Che questa fase Possa continuare Non Non c'è Una soluzione Già Per i dipendenti pubblici Dipendenti pubblici Il loro stipendio Lo pagano i cittadini Tutti i cittadini Con le tasse Quindi con il loro lavoro Esattamente come i pensionati E per questo Che abbiamo una grande responsabilità Tutti Fare andare bene Marciare Questo Questo paese L'altra L'altra parola Di queste settimane Sarà rispetto Rispetto per il lavoro Delle persone Che ci ha consentito Di arrivare a oggi 4 maggio In questa condizione Di riapertura E di tutte le riaperture Che saranno possibili Nei prossimi giorni E nelle prossime settimane Il rispetto Per le persone Che hanno lavorato Negli ospedali Nelle aziende sanitarie Nelle case protette Gli operatori E anche Naturalmente Nelle case di cura Nelle farmacie Insomma Tutte quelle persone Che sono state Al servizio Dei cittadini E hanno reso possibile I volontari Che non ringraziamo mai abbastanza Che hanno reso possibile Che oggi ci sia Che oggi sia una data Che dovremmo ricordare Che vorremmo ricordare Come l'inizio della ripresa Rispetto per questo Rispetto per tutti i cittadini Che in questi due mesi Hanno consegnato Al governo La possibilità di riprendere Le attività Con i loro comportamenti virtuosi Abbiamo dei problemi Non so se ci si continua A vedere in tv Ci sono dei problemi Tecnici Sì Sulle parole Del commissario Venturi Però diciamo Che il messaggio Era molto chiaro Commissario Venturi Ci ha tenuto Proprio a ribadire L'importanza Di quelli che sono I nostri comportamenti A partire dalla responsabilità Dal rispetto Nei confronti degli altri Non dobbiamo Insomma In molti Magari appunto Nel momento in cui Parlano con qualcuno Si tolgono la mascherina Per avere il volto scoperto Per essere più compresi Per essere più ascoltati In realtà Il rispetto in questo momento Dell'altro Proprio tenerla addosso La mascherina Chiedendo anche all'altro Di averla Io credo che questo sia Un segno di grande rispetto E anche di collaborazione Nel cercare di evitare Che il virus Torni a propagarsi Perché se è vero Che per due mesi Siamo stati in casa E quindi ci sentiamo In qualche modo Anche tutelati Da queste quattro mura di casa Che ci hanno Probabilmente anche salvato Dal contagio Nel momento in cui usciamo Qualsiasi persona E anche noi stessi Se fossimo Ad esempio Asintomatici Potremmo essere pericolosi Per cui questa attenzione Che è minima Qualcuno dice Ma è caldo Con la mascherina Si fa fatica Almeno in alcune situazioni In alcune occasioni Dove gli altri Sono vicini Secondo tutte le persone Che hanno anche Un ruolo di responsabilità Dai medici Dai politici stessi Ci dicono che Sarebbe bene Poi le mascherine Non si trovano Ecco questo è un problema Ieri tra l'altro Ha chiamato Una nostra Ascoltatrice Una signora Dicendo che Era proprio uscita In mattinata Per la prima volta Dopo 50 giorni Per fare Per acquistare Dei farmaci E è andata Alla ricerca In 4 o 5 farmacie Diverse Delle mascherine Le mascherine Quelle classiche Chirurgiche Che dovrebbero costare Intorno ai 50 centesimi E in 5 farmacie Alle 10 del mattino Erano già tutte Esaurite Insomma una situazione Che anche questa Va in qualche modo risolta Ma adesso Diamo il buongiorno Alla sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti Buongiorno sindaco Bentrovato Buongiorno a voi Ragazzi Buongiorno Sindaco Ieri lei è intervenuto Con un post Su Facebook In maniera piuttosto Netta Richiamando Insomma Ha la responsabilità In questo avvio Di fase 2 Nato da che cosa? Da un giro Nella sua Bellaria Oppure dal percezioni? No no Da un giro Da un giro Nella mia Nella mia città Che teniamo Sempre Sotto controllo Ma non con oppressione Ma in metodo Anche proattivo Ma è sempre bene Verificare Tra l'altro Il parco È proprio attaccato Al ripresso Decente Al municipio Quindi Lì è facile vedere Tutte le sere Faccio un post Dall'inizio Dell'emergenza Sanitaria Legato alla città Ci informiamo Ci teniamo Anche su di morale Nei momenti Più difficili E quindi È uno strumento Anche utile Per Per dialogare Per dialogare Con la città Ieri Nel pomeriggio La mattina La mattina C'era stata Molto più Responsabilità Direi A parte Magari davanti Appunto Ancora qualche supermercato Nel pomeriggio Nei parchi Tante persone Troppe Tutto quello che Mi ha lasciato un po' perplesso E Bambini Da soli Che giocavano Fra di loro Questo è stato È lì che ho voluto In qualche modo Ricordare Che i bambini Possono andare al parco I minorenni Si è accompagnati Dai genitori E che Non è ammissibile Non è Permessa L'attività L'attività Ludica Diciamo Ludica E di assinuamento Cioè Di aggregazione Ecco Ancora Non siamo in questa fase Quindi se un papà Va al parco Col bimbo E si lancia la palla L'uro due Che vivono insieme È un discorso Se tre bambini Giocano con lo stesso pallone In questo momento Non è permesso Forse è ancora giusto Che ci siano Delle misure Di attenzione Maggiore Non è semplice Anche immagino Sindaco Mettere in atto Quelle armi Fra virgolette Per contrastare Eventuali comportamenti Scorretti Perché Anche per le forze Dell'ordine Pensiamo a un comune Come Bellaria Che ha i suoi vigili Ha le sue forze dell'ordine Il contributo Anche di polizia E carabinieri Ma Forse i controlli Fino a quando Fino a quindi A domenica La maggior parte Della popolazione Comunque era in casa E non aveva Motivazioni per uscire Era molto più semplice Ora I controlli In tutti i parchi In tutte le vie In tutti i parchetti Diventano complessi Diventa complicato Cioè Ieri ci sono stati Però insomma Immagino che non sia semplice Noi abbiamo raddoppiato Abbiamo raddoppiato anche Le pattuglie In queste giornate Ma ieri c'è l'apertura Dei cimiteri Quindi Monitorare Anche i cimiteri Perché non fossero luoghi Di assembramento Tutti gli esercizi commerciali Soprattutto i supermercati I parchi E poi anche lì È facile Perché È ammesso esserci Ma Ma la distanza Perché si mantenga la distanza E quando vedi la forza dell'ordine La divisa Allontanarsi di un metro Gli uni dagli altri È un attimo Ma soprattutto Anche pensare Qualcuno Di tanto Scrive Sanzioni Controlli Mettete le mani Nelle tasche Questo va benissimo Finché lo scriviamo Ne confronti gli altri Poi quando Tocca Te stesso Gridi Allo stato di polizia Quindi è anche un esercizio È un esercizio difficile Io soprattutto sono Molto di più Per le pratiche Proattive Di sicurezza urbana E anche Di attenzione Quindi Le buone pratiche E i buoni E Anche i controlli Sicuramente Però evitando la repressione Perché poi spesso Non paga Effetti Inversi Tra l'altro Insomma Restando in tema Di questa fase 2 Bellaria Insieme ad altri comuni Ha sottoscritto Anche un accordo Con comuni Della provincia Limitrofa Per consentire Lo spostamento Per situazione Di necessità Diciamo sindaco Che avevate un sacco Di bellariesi Che volevano andare A fare la spesa All'Iper Sì c'è un altro Discount Dico Iper Così Esatto La zona Limitrofa Savignano Però anche su questo Ha voluto dire Insomma Niente Shopping in giro Ecco Ma Assolutamente Sì L'ho voluto Rimarcare Tra l'altro Abbiamo In quel protocollo Rimarcato Il criterio Della prossimità Non venga Letta Come un All'interno Di questi comuni Si può girare Così Per il gusto Di fare Un giro Se c'è Una necessità E il negozio Più vicino Più specifico È In uno di questi Comuni Ci si va Insomma Soprattutto se sei Confinante Olimitro Sì no Anche perché c'era il paradosso Che un bellariese Potesse andare a fare La spesa cattolica Per dire Non appunto andare A San Mauro A Savignano Insomma Sono quei luoghi Di confine Tra provincia Che possono essere Effettivamente Poco utili Anche nella dinamica Di una responsabilità Rispetto ai comportamenti Esattamente Tra l'altro Su questo confinante Fra comuni Si è richiamato molto Per quello che abbiamo Richiamato Fra sindaci Un protocollo Insieme Per evitare Che Da Sant'Arcangelo Per andare a Savignano Già che è confinante Ma si dovesse passare Per andare lì Per comunque Dal comune di San Mauro O dal comune di Gatteo Oppure Per noi Uguali Dobbiamo passare Da San Mauro Per Savignano Quindi abbiamo fatto un accordo A 4 Anzi 5 E abbiamo Sottolineato il criterio Della prossimità Così Si supera l'aspetto Del passo dal confine O no Perché poi qualcuno Si attacca Anche questo appiglio Sei più vicino È più utile Fai meno strada Eviti l'assemblamento Ci vai Ma il concetto È senso di responsabilità Perché se no Non se ne esce Sarà Andando sempre A dare il controllo O l'obbligo Non se ne esce Sindaco Nei giorni scorsi È un po' tramontata Questa polenica Però nei giorni scorsi Lei tra l'altro In modo a mio avviso Anche molto Propositivo Era intervenuto Sulla questione Delle spiagge Spiagge aperte Spiagge chiuse Insomma anche dopo Una serie di indicazioni Che erano state contraddittorie Tra di loro E quindi questo sappiamo In questo periodo Noi che almeno Siamo chiamati a raccontare Può ingenerare Solo confusione Nelle persone Che si trovano un po' Ad avere notizie diverse Nell'arco di poche ore O la mattina si può fare la cosa La sera non si può più fare Ma dobbiamo forse Abituarci anche a questo Come ha visto L'evoluzione anche Di questa polemica Una polemica Su avviso Che serve ad attivare Anche una politica Più responsabile Più magari In ricerca di risposte Che possano essere Condivise da tutti Oppure è rimasta Un po' lì Sospesa Un po' sterile Allora Il tema Della polemica È perdente Sempre Soprattutto in questo momento La polemica Non serviva a nulla Su questo sono Abbastanza Trasciante Sono convinto Di questo La riflessione O lo stimolo Poteva essere Poteva essere Un ragionamento Diverso Lo dico senza giudizio Lo dico senza critica Per nessuno Perché poi In questi momenti Di difficoltà È facile Prendere la propria strada E ognuno Prova a usare Le armi che ha Però la mia Non voleva essere Una polemica E non ho Sostenuto Non ho apprezzato Non ho voluto raccogliere La linea del contrasto O della polemica Il ragionamento Era proprio quello Cioè se ci sono 10 famiglie E si aggregano Nel parco Per fare Minima attività Rischiano di essere Un posto Un po' di aggregazione Nel caso di Bellarizia Marina Voi pensate 7 km di arnile Con 19.000 abitanti Non è vero Che l'arenile Può diventare Un motivo Perché si fa fatica A controllare Perché è molto ampia De attrazione In queste giornate Di sole Certo Però se noi 7 km di arnile Spalmati su 7 km Ce ne stanno tante Di persone Nei parchi urbani Sono più concentrati Io capisco Che sia diverso Per una città Che ha Poco più Dei 7 km di arnile E ha invece 10 volte O 9 volte 8 volte I nostri abitanti Infatti lei aveva fatto Una proposta Tra l'altro Visto che i sindaci Come ha ricordato Non possono aprire Laddove è più stringente Ma possono chiudere Laddove è più Aperta la situazione Magari con la libertà Però sappiamo In questo momento La libertà Poi degli singoli Amministratori Non lo so Giusto per chiedere Perché è difficile Tutto E ci rendiamo conto Che poi ogni cosa Sale a dei picchi Anche di dibattito Poi magari arriva Un'altra emergenza Da verificare Poi si rimane su quello Sindaco L'ultima cosa Perché so che voi Avete contatti Costanti Anche con la prefettura Con insomma Con anche gli altri sindaci Gli altri amministratori Questo grande tema Anche molti nostri ascoltatori Ce lo stanno rimandando Delle mascherine Che restano introvabili Quando adesso L'indicazione è Uscite con la mascherina Andate nei luoghi Con la mascherina Possibilmente Insomma Visto che è anche più possibile Trovare delle persone Adesso poter incontrare Delle persone Come ci si sta attrezzando In qualche modo Cioè sappiamo La regione Tutto quanto Ma avete trovato Un po' una via Anche per avvenire Incontro a questa necessità Dei cittadini Faccio lo spot Che non dovrei fare io La regione La regione sta portando Diverse mascherine Noi abbiamo Un fatto degli ordini Anche come comune Anche questa volta Cercheremo di fornire Circa una mascherina Per cittadino E questa è la risposta Pressoché immediata Nei prossimi giorni Che vorremmo dare Il problema di non trovare Le mascherine È il problema Di fare gli annunci Prima di coordinarsi Con il mondo reale Non nascondiamocelo Molti degli approvvigionamenti Che sono stati fatti Sono stati Acquistati A un prezzo Decisamente superiore Dei 50 centesimi Quindi se poi tu dici Devi acquistare A 50 centesimi E io L'ho acquistata Di base A oltre un euro Non posso vendere A 50 centesimi E quindi Non vendo le mascherine Questo è il vero problema Noi che non ci sono Mascherini in giro Non ci sono 50 centesimi Non so se questo È chiaro Ma se uno Parlasse veramente Con chi le ha comprate Saprebbe che questo È il massimo Dei problemi Prima di farci A te Non ci bisognerebbe Metterne le condizioni Perché Si possono verificare Se no Si crea grande confusione L'avete detto voi Eh già Infatti Sindaco Grazie per questi commenti Insomma Nel pieno Nell'avvio Della fase Della fase 2 Magari ci aggiorneremo Poi nelle prossime settimane Per vedere come Proseguono le cose Diciamo Speriamo che ieri Prego Ma certo Perché temo Che ci sia sfuggito L'aspetto Il secondo aspetto Più importante Di questa fase 2 Il primo è sicuramente Quello di continuare A proseguire La salute Pubblica La salute delle persone E questo è senza dubbio Perché l'emergenza Che abbiamo attraversato Ma il secondo aspetto È quello Che noi dobbiamo Tutelare la nostra economia E con questo Non voglio dire Che dobbiamo Riapprire E basta Dico che serve Ancora tanta responsabilità Perché se non Continuiamo A cancellare Ad azzerare Questi contagi Il turismo Che è il motore Principale Dell'economia Delle nostre città Della nostra Romagna Soprattutto quella balneare Della riviera Subirà dei danni Enormi Già avremo Avremo delle contrassioni Enormi Ma subiremo Dei danni Forse Forse Devastanti Quindi Il senso di responsabilità L'impegno ancora di tutti Deve essere massimo Perché diamo 20 giorni davanti Nei quali dobbiamo Riuscire a dire Aprite Quanto meno I flussi interni Perché Il turismo Sostiene In sicurezza In sanità In salubrità Questa situazione Vi permetterà Di fare anche Delle vacanze Che siano In una riviera Sicura Esatto In una riviera Che Ce l'ha messa tutta E' vero In questo momento Abbiamo la doppia responsabilità Sulla nostra Sull'altrui salute Ma anche Su quello che siamo Anche di fronte Al resto dell'Italia Perché probabilmente Quest'anno Giusto l'Italia O forse neanche tutta L'Italia Sarà Insomma Appetibile Per richiamare turisti Diciamo così Però Assolutamente ricordarci Esatto Come secondo punto All'ordine del giorno Ogni mattina Quando ci alziamo La salute E questo aspetto qui Perché se no Non ne usciamo Sindaco Grazie ancora Anche per queste Ultime puntualizzazioni Quanto mai doverose Buon lavoro A voi Buona giornata Grazie Insomma Vediamo anche Alcuni nostri utenti Che ci scrivono Proprio sul tema Delle mascherine Perché nel momento In cui si desidera Anche uscire E io penso Che sia per così Per molti Anche però Il desiderio Di farlo in sicurezza Perché ci sono Magari alcuni Che escono così Però altri E quindi c'è C'è chi dice Le mascherine Non si trovano C'è chi dice Appunto Magari potrebbero essere Immagino Insomma Claudia Anche forse Le stesse amministrazioni Che si possano fare Garante di acquisti Di massa Dove magari Il prezzo potrebbe essere Anche più contenuto Tra il prefetto E gli amministratori locali Tra l'altro Insomma Ho chiesto anche Al prefetto Di poter intervenire Una di queste mattine La nostra trasmissione Per farci un po' Il punto Di quello che è Il lavoro fatto Con gli amministratori Però al di là di questo Appunto Il sindaco diceva C'è questa possibilità Di arrivare Immagino In tutti i comuni Spero Di poter dare Almeno una mascherina A persona Ricordiamo Che nella prima fase Di Insomma Di consegna Di queste mascherine Che arrivavano Dalla regione Era stato fatto Una famiglia Che in questo momento Soprattutto un po' Di riapertura È decisamente Poco utile Poi è vero Mascherina che serviva Per andare ad acquistare Le mascherine Mascherine non ci sono E quindi il gatto Si morde la coda Anche perché Stiamo comunque Continuando a parlare Delle mascherine Che hanno una vita limitata Molto limitata Ora vedo Tanta pubblicità Io sui vari social Di mascherine Mascherine brandizzate Insomma Mascherine vendute Anche Nel rispetto Di tutte le regole Per cui insomma Forse Non ho mai visto i prezzi Però Non mi sono mai Ma è addentrata Nella ricerca Del prezzo Di queste mascherine Lasciamo da parte Le considerazioni In questo momento Sulla fase 2 O meglio Andiamo a vedere Qual è l'aggiornamento Quello di chiusura Sui contagi Di chiusura Della fase 1 Perché i dati Che sono stati diffusi Nella giornata di ieri Sono quelli Aggiornati alle 12 Quindi La fase 1 Dell'emergenza Si è chiusa Nella provincia di Rimini In regione Con i numeri Con i contagi Con purtroppo Le vittime Che andiamo ad ascoltare In questo servizio Proseguono costanti Le guarigioni 17 Quello odierne 1170 Nel complesso Nelle ultime 24 ore Nessun nuovo Ricovero in ospedale Infatti I 9 nuovi Contagiati Si trovano tutti In isolamento domiciliare Con sintomi leggeri In regione In regione I nuovi casi positivi Sono 159 in più Rispetto a ieri Un incremento Fra i più bassi In assoluto 196 I nuovi guariti Che salgono A 13.525 Continua il calo Dei casi attivi Scesi a 8.984 Meno 61 Per un totale Di 4.541 Guariti in più Rispetto ai malati Effettivi Numeri Che infondono Speranza Numeri Che ribadiscono Semmai Ce ne fosse Ancora bisogno Che tutto Dipende dal comportamento Di ciascuno di noi E questi sono Gli aggiornamenti Gli ultimi Arrivati Nel pomeriggio Di ieri I prossimi Arriveranno Quest'oggi Ricordiamo che Per capire L'impatto Di questa fase 2 Bisognerà attendere Quanto meno Una settimana Dalla riapertura Effettiva Quindi diciamo Che nei primi giorni Della prossima settimana L'eventuale E in qualche modo Attesa La risalita Della curva Perché Tutti hanno detto Che ovviamente Un lieve Almeno Si spera lieve La risalita Ci sarà Visto che I contatti Che non ci sono stati Negli ultimi due mesi Adesso Ci sono Deve restare Entro determinati limiti Nella notte Tra l'altro C'è stato Un incontro Tra il premier Alcuni Nella notte Sì Un incontro Che è proseguito Per buona parte Della notte Un lungo vertice Tra il premier Conte Il titolare Del MEF Gualtieri E i capi Delegazioni Del governo Il tema Era il decreto Di maggio Ma ci sono Alcune dichiarazioni Rilasciate Dal premier Al quotidiano Affariitaliani Quotidiano Dove dice Gli italiani Hanno mostrato Complessivamente Un grande senso Di responsabilità Nella reazione Dei cittadini Ho colto Grande voglia Di ripartire Ma anche Consapevolezza Che bisogna farlo Nel rispetto Delle regole Gli spostamenti Sui mezzi pubblici E il ritorno al lavoro Di milioni di persone Ricordiamo 4 milioni e 400 mila Sono tornate ieri A lavorare Si stanno svolgendo Senza eccessivi disagi Ha detto Conte È un primo passo Incoraggiante Ma non dimentichiamo Che la strada È lunga E non dobbiamo mai Abbassare la guardia Poi ha detto Fino al 17 maggio Saranno in vigore Le misure contenute Nell'ultimo DPCM Le regioni Ogni giorno Ci forniranno I dati Aggiornati Con il rispetto Delle regole Sono fiducioso Che la curva Potrà rallentare In alcuni territori E poi dice Non ignoro Le richieste Arrivate da alcune regioni E da alcune particolari Categorie Di anticipare L'apertura Delle rispettive attività Siamo al lavoro Anche per questo Avendo sempre Come prioritario L'interesse generale Della tutela Della salute Di tutti i cittadini Anche perché Diciamole Andrea Dispetto Di tante realtà Aziendali Prevalentemente Che ieri Hanno potuto riaprire Si parla di Centinaia di aziende Anche per il nostro territorio Invece Ancora restano Chiusi Piccoli negozi Negozi al dettaglio Insomma tutto I parrucchieri Gli estetisti Che ancora dovranno Attendere ulterior tempo Perché se Per alcuni Il 18 maggio Insomma Sembra abbastanza vicino Sempre che E questo è un po' Il timore anche Che hanno tanti operatori Di quel settore Come dicevi tu Se poi la curva Torna a risalire Non è che poi Il 18 maggio Non ci permettono Di aprire Ricordiamo insomma Che c'è una fase Non so se è una strada Quella la fase 3 Magino di no C'è una fase 2 bis Che è quella del 18 maggio E una fase 2 ter Che è quella del primo giugno E quindi c'è anche Grande apprezzione Tante categorie In queste settimane Hanno chiesto Di poter riaprire prima Di poter essere messi Nelle condizioni Di poter riaprire Con tutte le regole Del caso Con tutte le attenzioni Alle accortezze Necessarie in questo momento Io ad esempio Ieri proprio girando Anche incrociando Qualche operatore In questo caso Ero prevalentemente Bar Loro appunto Attendono di poter riaprire Adesso fanno solo asporto In molti Stanno attrezzando Per avere due porte Cioè una di ingresso E una di uscita Proprio per cercare Di evitare di evitare Di evitare il contatto Più possibile Tra le persone Si è ancora in attesa Invece dei protocolli Relativi alle attività turistiche Alberghi e spiagge In Emilia Romagna Ancora non sono stati Resi noti Eventuali protocolli Sul comportamenti Da tenere In questa estate Di convivenza Con il virus Ieri avevamo parlato Invece Di test sierologici Di questi tre laboratori Che sono stati Abilitati Dalla regione Con un decreto Pubblicato Con un'ordinanza Pubblicata Il 28 aprile scorso Si tratta di Nuova ricerca Sistema 2000 E Casa di Cura Montanari di Morciano Che sono abilitati In questo momento Per realizzare Questi test Ma in ambito Di medicina del lavoro Ecco attenzione Non vogliamo Esatto Non per i privati cittadini Tra l'altro Però ieri Alcuni hanno contattato Alcune di queste realtà Che non hanno specificato Cioè hanno detto Sì ci stiamo Attrezzando E probabilmente Si potrà partire Tra una decina di giorni Esatto Diciamo che in questo momento È solo medicina del lavoro Che cosa vuol dire Medicina del lavoro Anche in questo protocollo Che è stato sottoscritto Dalla regione Poi nel dettaglio Anche sul nostro sito Noi l'abbiamo messo Significa che Se un datore di lavoro Quindi un'associazione datoriale Ritiene importante Sottoporre i propri dipendenti Al test sierologico Nel momento in cui Si rientra in azienda Il tema degli asintomatici Sicuramente sono tanti I temi e le domande In atto Ecco si può rivolgere A questi tre laboratori Non chiamate Voi che insomma Siete a casa Magari in questo periodo Volete solo capire Se il virus L'avete preso o meno Se siete stati Sottoposti a contagio In questo momento Questi ambulatori Non possono farlo Perché appunto In questa prima fase Del protocollo Si parla solo Si parla solo di Medicina del lavoro Però appunto Con la possibilità Forse tra qualche settimana Che sia operativo Anche per tutti coloro Che desidereranno farlo Ricordiamo che Questi tipi di test Possono essere effettuati Solo dai laboratori Che hanno ricevuto Il via libera Dalla regione Al momento sono otto In Emilia Romagna E diciamo che Il test sierologico Non è però Una patente di immunità Nel senso che Il risultato potrebbe essere Positivo o negativo Se negativo Il test va comunque ripetuto Perché si potrebbe venire A contatto col virus In un momento seguente Se positivo È necessario comunque Effettuare Lo step successivo Che è il tampone Per vedere se quel virus È attivo Esatto E quando è stato contratto Perché insomma Adesso noi non siamo Degli specialisti Però immaginiamo Che questo è il pilaprassi E quindi insomma Su questo È necessario andare Con cautela Comunque questi tre laboratori Che al momento Sono operativi Per la medicina del lavoro Nel momento in cui Arriverà il via libera Anche per altre categorie Saranno utilizzabili Visto che i test Da loro Insomma presentati Alla regione Sono ritenuti Tra quelli attendibili Che è questo un po' La discriminante E con non tutti i test Danno risultati attendibili Tra l'altro Insomma stupito anche Che su otto Che ci sono in tutta la regione Tre siano concentrati Nella nostra provincia Probabilmente poi ci saranno Ulteriori ordinanze Che andranno ad abilitare Anche altre strutture In questa prima fase Questo è quello Che emerge Ieri invece Nel suo intervento Il commissario Venturi Speriamo in questo caso Di potervelo proporre In integrale Senza problemi Di alcun tipo È intervenuto Su un'altra Di quelle voci Che si sono diffuse A macchia d'olio Sui social Quello delle terapie Al plasma Esatto Sto dicendo che Sì una realtà Incoraggiante Ma ancora tutta Da dimostrare Quindi non abbiamo Risolto nulla E ci è andato Piuttosto deciso Nel far capire La sua posizione Su questo diciamo Che le regioni Hanno pareri E decisioni diverse Rispetto a sperimentazione O meno Di plasma Feresi Così vengono chiamate Sentiamo allora Le parole Di Sergio Venturi Non so perché Le persone si affezionano Ai tormentoni Dei social Come la terapia Con plasma Di pazienti guariti Allora Stiamo parlando Di questo tormentone Dei social Io ho risposto A tanta gente Che mi chiedeva Per quale motivo Le persone si affezionano A delle cose Che girano E che riguardano Hanno riguardato 20 20 persone In tutta Italia Ci sono tre studi Che complessivamente Rappresentano 21 21 Pazienti Ai quali è stato Somministrato Di plasma Sulla base di questo Voi Ritenete Le persone Che non hanno bisogno Di sapere Di immunologia Di virologia Ma voi pensate Che noi possiamo Immaginare Che su 20 persone C'è un risultato Promettente Lo possiamo estendere A tutti Io credo Che sia impossibile E non solo Io lo credo Oggi ha parlato Pierluigi Viale Che è All'interno Dell'unità di crisi Della regione Emilia Romagna Fa l'infettivologo Trasfondere plasma Non è una cosa Come trasfondere Una soluzione Fisiologica Una flebo Trasfondere plasma Significa Trasfondere Insieme Agli anticorpi Delle persone Ammesso 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 che gli anticorpi Funzionino Ma trasfondere Il plasma Significa trasfondere Tutto quello Che c'è In quel plasma Quindi Prima di partire Per la tangente Dire abbiamo trovato La cura Dobbiamo fare Dei Test Dobbiamo fare Delle sperimentazioni Che siano controllate E invece che leggere Quello che Tutti i social Propongono Per favore Se ci saranno Dei risultati Li andiamo a leggere Nella letteratura Internazionale Come abbiamo Sempre fatto E come è sempre Progredito Il mondo Nella ricerca Ci sono Le immunoglobuline Le usiamo Da 60 anni Le immunoglobuline Cioè Gli anticorpi Li usiamo Per il tetano Nella profilassi Nella profilassi Di tante malattie Usiamo Le immunoglobuline Per usare Il plasma Delle persone Che sono appena Guarite Da covid-19 Abbiamo bisogno Di una qualche Certezza In più Quindi Vi prego Non assillatemi Più Con le domande Sul plasma Perché non hanno Ragione Di esistere Ho già risposto Ha risposto Pierluigi Viale Ci sono altri Sistemi Che stanno Che stanno Per utilizzare Per esempio La nefrologia Di Bergamo Sta facendo La feresi Per restrarre Gli anticorpi Solo quelli Per poterli Poi Ritrasfondere È una cosa Differente Rispetto Al plasma Ma la cosa Che mi dà Più fastidio Di tutte È Che si continua A scrivere Bisognerebbe Prima leggere Prima che scrivere Ma si continua A scrivere Che nelle province Di Mantova E di Pavia Da settimane Non ci sono Più Decessi Non è così Non è così Primo Perché è una Cosa che si è fatta Su 20 persone Ma non è vero Che non ci sono Più decessi Perché vorrebbe dire Che la terapia Ammesso che fosse Efficace Si sarebbe fatta Su tutti Invece si è fatta Solo su 20 Ma soprattutto Perché purtroppo In quelle province I decessi Ci sono ancora Quindi Per favore Verifichiamo Le notizie Andiamo a vedere Non ci vuole tanto Si va a vedere Sui giornali Ci sono Su internet No Le prime pagine Dei giornali Di Pavia Dei giornali Di Mantova Di quelle Delle altre province Quelli Leggiamo quelli Non La catena Di Sant'Antonio Dei social Che parla E che scrive E che si tramanda E poi più Si tramanda E più si gonfia Di inesattezze Di imprecisioni Quindi Promettente Questa cosa Si fa in tante malattie Sul covid-19 Con una malattia Un po' più differente Un po' differente Abbiamo bisogno Di certezze E abbiamo bisogno Di test E di studi Controllati Siccome In Emilia Romagna Gli studi Controllati Non li Impone La politica Ma li propongono I I clinici Ed i ricercatori È evidente Che se i clinici E i ricercatori Vorranno proporre Una terapia Di questo tipo Si valuterà E non la valuta Certamente Né il commissario Né l'assessore Nel presidente Ma la valutano I comitati etici Le sperimentazioni Le valutano I comitati etici E AIFA Siamo a capo I clinici I ricercatori Di questa regione Sono a capo Di numerose Sperimentazioni Cito Prima di tutte Quella dell'eparina Che è coordinata Da proprio Da Pierluigi Viale Quella Sull'idrossiclorochina Altre Sperimentazioni In combinazione Di farmaci Alle quali Partecipiamo Se Clinici Della Emilia Romagna Vorranno proporre Questa Faremo anche Questa Per il momento Io mi attengo Alle Cose Che Raccontano Gli infettivologi Che sono quelle Che vi ho appena Finito di raccontare Una posizione chiara Quella del Commissario Sergio Venturi Su Questa nuova Insomma Moda Esplosa Sui social Insomma Tutti Alla ricerca Di terapie Che possano dare Una soluzione Al problema Sappiamo che se ne stanno Studiando tante Ma sono tutte In fase di studio Qualche giorno fa Leggevo anche Dell'avvio Di una sperimentazione Sulla profilassi Con l'idroxiclorichina Se non sbaglio Sui soggetti Mi pare Si chiami così Esatto Mi scuso se ho sbagliato Non sono addetto del settore Il suono è quello Però ci assomiglia Di profilassi Che partiva proprio In Emilia Romagna Nel senso Su alcuni soggetti Che non sono ancora positivi Ma vivono a stretto contatto Con soggetti positivi Si proverà La profilassi Tramite questo Questo farmaco Per vedere appunto Come accade poi In altre malattie Sappiamo che Ci sono delle attività Di profilassi Che permettono Di non sviluppare I sintomi Certo Poi diciamo Che su questo tema Del plasma C'è anche tutto Poi il dibattito Si perché ci sono Quelli che pensano Al complotto Che non venga utilizzato Perché costa poco Quindi le case farmaceutiche Non ci guadagnerebbero nulla Insomma Ora noi Lasciamo perdere Tutte queste cose Cerchiamo di capire Se effettivamente Può essere Qualche cosa di utile Per la salute Dei nostri Delle persone malate Io credo che Insomma sarà importante Anche condividere Tra regioni diverse Tra ospedali diversi Quello che è Un tentativo Perché di tentativi Ne stanno Ne stanno facendo diversi Non tutti hanno I risultati Anche i medici stessi Ci hanno spiegato Da quando è iniziata La malattia Ad oggi Anche l'evoluzione Nelle terapie È cambiata tanto Cioè Nel primo giorno Si faceva anche A capire Quale potesse Faceva fatica A capire Quale potesse Essere la terapia Utile Per salvare La vita Delle persone Poi un po' Questa risposta È arrivata E' chiaro che poi Non tutti Hanno lo stesso beneficio Da determinate terapie Anche perché Alle volte Per sperimentare La validità Di un farmaco Su una determinata Malattia Ci vogliono anni Per capire Se effettivamente Funziona Questa volta Si è dovuti andare Un po' A tentativi Possiamo dirlo Anche in sanità Ce l'hanno detti i medici Poi quando è stato trovato Qualcosa che effettivamente Potesse funzionare Ora c'è questo tema Del plasma Vedremo come Andrà a finire Insomma Io non vorrei dare adito Insomma Anche a delle Falsi illusioni Da una parte Ma invece Se la scienza Se la medicina Ci dicono Che è una buona Stata da perseguire Io credo che poi Anche a livello Nazionale Arriveranno Delle risposte Però non lo so Su questo diteci Che cosa pensate Noi non essendo Esperti di medicina Ci atteniamo A quello che Dice il commissario O comunque Dicono anche altri Sul resto Lasciamo un po' Il dibattito Ai social Appunto Ieri L'istat Invece ha fatto Una cosa Che solitamente Non viene fatta In questa Specifica Nel senso Che sono stati Presi in esame Tantissimi comuni Per verificare L'andamento Dei decessi Di questo 2020 In particolare Da quando C'è stato Il primo decesso Legato al coronavirus Rispetto a quelli Del quinquennio Precedente Quindi parliamo 2015 2019 E 19 Cosa emerge Emerge che di fatto Esistono tre Italie Sulla diffusione Del coronavirus Una Dove la diffusione È stata molto alta Molto Drammatica Anche Una realtà Diciamo Media Ed una invece Dove il virus Non ha tecchito Più di tanto Almeno non Finora E speriamo Che questo Non accada 37 Le province Del nord Italia Più Pesaro Orbino Che sono quelle Maggiormente colpite Tra queste province C'è anche Quella di Rimini Nel riminese Nel mese di marzo Si registra Una crescita di decessi Del 68,2% Rispetto alla media Registrata dal 2015 Al 2019 Alcuni di questi dati Ce li aveva mostrati Anche Gabriele Nel collegamento Che avevamo fatto Con lui qualche settimana fa La media Delle milie romagna Invece del più 70% Nel mese di marzo Quella nazionale Più 49,4 Dal 20 febbraio Che è la data Del primo decesso Che viene collegato Al covid-19 Fino al 31 marzo I decessi In provincia Di Rimini Sono stati 577 Rispetto ai 368 Di media Del quinquennio Precedente Di questi Sono 134 Quelli attribuiti Al covid-19 Quindi il 23% Del totale Ma si vede Che c'è una discrepanza Tra questi numeri Visto che 577 Meno 368 Ci sono in totale 209 Decessi E solo 134 Sono stati Attribuiti Al covid-19 Io mi interrompo Un attimo Da questi dati Perché non vorrei Fare aspettare Più di tanto Un'ascoltatrice Che abbiamo In collegamento Telefonico Buongiorno Con chi stiamo parlando? Buongiorno 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 Mi chiamo Teresa Tonti Da Rizzone Buongiorno Teresa Sono un'insegnante Di scuola media E si parla molto Della scuola Ultimamente Però soprattutto Per bambini Delle materne Delle elementari O per l'esame Di maturità Io in questi giorni Ho visto Ho sentito I miei alunni Di terza media Loro genitori E tanti colleghi E ci si è anch'essi tutti Ma perché Se l'esame Di maturità Si può fare in presenza La stessa cosa Non si può applicare Per le scuole medie Che è anche piacevole Perché La commissione D'esame 9-10 persone E il candidato I candidati Entrano una alla volta Quindi Cosa impedisce Che si possa fare In presenza Io Teresa Sono d'accordo Con questa sua riflessione Devo dire la verità Tra l'altro Insomma Proprio ieri Parlavo con Insomma una persona Che deve sostenere L'esame di terza media Quindi sono anche Ragazzini già grandi Perché comunque Lei Teresa Che all'interno Della scuola Si tratta di ragazzini Che non è che Non rispetterebbero Determinate regole Se preoccupati Per loro Cioè Possono essere assimilati Anche a dei ragazzi Più grandi E probabilmente Questo darebbe dignità Comunque ad un percorso Importante Chiaro Non è la maturità Però sono Comunque la chiusura Di un ciclo Che per loro Ha significato tanto Teresa Come vi state organizzando Cioè I ragazzi Adesso che si stanno preparando Come preparano Il loro esame Io purtroppo Non sono sui social Perché con problemi di salute Non posso In questo momento Non ho connessione Però Parlando con i colleghi Ho emerso in tanti Quello che sento io Cioè Essere stati Con questi ragazzi Per tre anni Averli dovuti Abbandonare Perché le lezioni A distanza Sono una cosa Totalmente diversa Per quelli Che sono riusciti A farle Perché Non è una cosa Semplice Neanche questa Nonostante Tanto pubblicizzata E Però Non poter Neanche Salutare Alla fine Di un ciclo Questi ragazzi È frustrante Per noi Come per loro Come per chi Ha perso Dei congiunti E non li ha potuti Salutare Quindi È qualcosa Di analogo Che ci Crea frustrazione Sì Molto doloroso Anche Ha fatto bene A fare anche questo Al di là Dell'esame Insomma Poi Probabilmente In qualche modo I ragazzi Si sentiranno Apprezzati E valorizzati Nel loro percorso Di studi Magari non quest'anno Negli anni prossimi Però Questo tema Anche del concludere Qualcosa con loro Di un ciclo Che comunque Pur breve È stato importante Sinceramente Non ho capito Quali siano le motivazioni Per cui Sì L'esame Di quinta superiore Si fa in presenza Con tutte le tutele Del caso E quello di terza La vicepreside Tanto Simone Noi ci conosciamo Sì Sono lì C2 Quindi È certo E cosa dicono Non si può fare nulla Immagino La vicepresidenza D'accordo In televisione Adesso le scuole In Via Alghero Immagino Devo fare lezione Su Zoom Sulle varie piattaforme Che hanno anche Cioè È difficile La scuola È anche Contatto E relazione Guardare i bambini Ragazzi negli occhi Cercare di capire Se hanno capito Se sono presenti Se hanno bisogno Di fare due chiacchiere Su un'altra cosa E questo sappiamo Che gli insegnanti Sono Sono splendidi Quindi Insomma A loro E a voi Tutta la nostra vicinanza In questo momento Così difficile Anche per imparare Una cosa Che probabilmente Uno non avrebbe mai pensato Di dover Di dover apprendere Magari Rimarrà anche Qualche cosa Di positivo Per il futuro In questo In questo periodo Teresa Che dire Noi raccogliamo Questa tua riflessione Soprattutto per Dare dignità Anche ai ragazzi Di terza media Che fa poche Settimane Dovrebbero sostenere Il loro esame Comunque a conclusione Del ciclo triennale E la raccogliamo Soprattutto raccogliamo Questo tuo amore Per i ragazzi Credo che Questa sia la cosa Che forse Si evince di più Anche dalle tue parole Teresa grazie Grazie mille Buona giornata Grazie per il vostro servizio Siete state Una compagnia Meravigliosa Quotidiana Anche adesso L'ho di fronte Tempo a fare Grazie Teresa Grazie mille Grazie mille Buona giornata Ciao Buona giornata Grazie Insomma davvero La voce di Teresa È un po' il modo Per stare vicino A tutti gli insegnanti Che insomma Da genitore Lo siamo entrambi Pur con bambine Che frequentano Classi diverse Insomma sappiamo Che lavoro Viene fatto Quindi sinceramente Anche a chi In questo periodo Scrive Ma gli insegnanti Non stanno facendo nulla Sono a casa Quindi lavorano Ancora meno di prima Ecco Pensiamoci Prima di scrivere Determinate cose Poi per carità Nella massa Ci può anche essere Qualcuno Che ha approfittato Abbiamo ancora Un collegamento Sì che non c'entra niente Con il covid In realtà Quindi proseguiamo Un attimo Su quest'altro tema Lo facciamo tra un attimo Lo facciamo tra un attimo Anche perché prima Ti volevo dare una notizia Hai condiviso Ma non la cosa giusta Sulla tua pagina facebook Non hai condiviso La puntata di oggi Così per dirti Hai condiviso La notizia prima La notizia prima Che era solo il tuo servizio Quindi tu ti sei vista E ti è piaciuto un po' Condividerti con tutti I tuoi follower Ma perché dici questa cosa così Vabbè perché so Che ci tieni a queste cose Volevo completare Il tema dell'indagine istat Abbiamo detto appunto Ieri è stata diffusa Questa indagine Dalla quale emerge Che nella provincia di Rimini Nel mese di marzo C'è stata una crescita Dei decessi del 68,2% Rispetto non al solo anno precedente Ma al quinquennio precedente Quindi per capire un po' Quella che era la tendenza Fino a questo 2020 Che ha scompaginato un po' Anche purtroppo questi numeri In Emilia Romagna Siamo in linea Perché c'è stato un aumento Di decessi Nello stesso periodo Del 70% In Italia invece A dimostrazione Che ci sono diverse velocità Nella diffusione di questo virus La crescita è stata del 48% Ad esempio leggevo che A Roma c'è stato un calo Di decessi In questo periodo Rispetto ad altri numeri Che adesso vi darò Ma che avrete sentito Nei telegiornali Che testimoniano Alcune realtà Veramente Tanto Tanto colpite Perché a Bergamo Nel mese di marzo Ci sono stati Il 568% In più Di decessi A Cremona Il 391% In più Poi c'è Lodi Più 371% Brescia Più 291% Poi ci sono due realtà Emiliano Romagnole Piacenza Più 264% Ma anche Parma Più 208% Ricordiamo Sono dei più Riferiti a persone Morte nel mese Di marzo Non tutte Sono attribuite Al Covid Però questo è il dato Relativo Ai decessi Alecco Più 174% Poi c'è Pavia C'è Mantua E unica realtà Del centro Pesaro Urbino Dove si registra Nel mese di marzo Una crescita di decessi Del 120% E insomma Provincia di Rimini 68,2 Che comunque Insomma Rispetto ad altre province Chiaramente Non stiamo parlando Le stesse percentuali Però è chiaro Che poi da un anno A un altro Può esserci Un discostamento Anche nel numero Delle vittime prese Su un mese Però è anche vero Ricordiamo che però Questo è un confronto Fatto non con un anno Ma con la media Di un quinquennio Quindi è abbastanza credibile 2015-2019 Quindi questi cinque anni Hanno detto Che c'era una determinata media Di decessi Nel mese di marzo Il 2020 Ha visto questo Discostamento Forte Non tutto forse Legato all'emergenza Covid Ma forse In qualche modo Riconnesso Perché ricordiamo Che gli ospedali Le strutture ospedaliere Sono state quasi interamente Occupate da persone Affette Da questo virus E questo magari Ha portato altre persone Magari per timore A non recarsi O a non farlo in tempo Nelle strutture ospedaliere Forse potrebbe essere Un po' anche questa Una lettura Di questi numeri Quindi ci sono magari Decessi direttamente correlabili Ed eccessi correlabili In maniera Secondaria Ma comunque legati All'attuale emergenza E diciamo che Credo che il Covid Abbia fatto una buona parte In questi aumenti Di percentuali Soprattutto in alcune In alcune province Dove ci sono delle percentuali Di aumento Davvero incredibili Diciamo che Bergamo Più 500 E rotte per cento Diventa Un numero Difficilmente Paragonabile Anche perché insomma Di fronte anche A tutti i colori Qui torno anche Al dibattito continuo Che si legge Di posizioni anche estremiste Di coloro Ma sì ma questo virus Un po' se lo sono inventato Per Cioè Leggi questi dati E io credo che Ci stiano certi luoghi Dove nessuno Dice questa cosa Nessuno Perché tutti sono stati Toccati Da vicino E quindi Insomma bisogna anche Proprio cercare Di essere molto Molto seri E anche molto Molto chiari Rispetto a quanto E quanto è accaduto A proposito Invece tornando Proprio a delle situazioni Molto più locali Come sapete Da ieri hanno riaperto Tante strutture Prima abbiamo parlato Dei cimiteri Volevo fare Cennò Ci ricorda appunto In che i grafici Che ci aveva mostrato Sulle rilevazioni Istat relative ai decessi Insomma dicendo che Probabilmente Lui ci aveva fatto vedere Anche il dettaglio Sui comuni Sì esatto Del nostro territorio E anche lui Prendendo in considerazione La media 2015 2019 E i dati Di quest'anno Comune per comune O quasi Ed era emersa Questa discrepanza Anche rispetto Ai decessi Attribuiti al covid Perché abbiamo visto Appunto Nella provincia di Rimini Ci sono 209 Vittime Vittime in più Nel mese di marzo 2020 Rispetto alla media Degli ultimi 5 anni Nel mese di marzo Di questi 134 Sono attribuiti Al covid Dalle statistiche ufficiali Quindi resta Una discrepanza Di oltre una settantina Di vittime Che non sono direttamente Correlate Al coronavirus Perché Vabbè I polemiche Ci sono su tutti Sappiamo che In molti comuni Ieri hanno riaperto I cimiteri Ad esempio A Riccione I cimiteri Riapriranno domani Ieri Ieri Tempo 10 minuti Arrivano due note Diciamo Una di critica Nei confronti Della mancata riapertura Da parte Di una forza politica In particolare Del partito democratico Tempo però Appunto Pochi minuti Arriva una nota Del comune Con diverse specifiche Legate proprio Alla riapertura Che riguardava parchi Che riguarda I mercati ambulanti Anche almeno Per quello che riguarda La parte Diciamo Dell'alimentare Poi anche Dei cimiteri Specificando Lo dico anche Questo semplicemente Uscendo dalla polemica Per dare un'informazione I cimiteri Apriranno domani A Riccione Quindi nella giornata Di mercoledì È chiaro Che chi appunto Purtroppo Le decisioni Anche che i comuni Possono prendere In autonomia Rispetto alla riapertura Può in generale Qualche Magari qualche Qualche confusione C'è chi ha aperto prima Quindi magari qualcuno È andato ieri mattina Al cimitero Pensando di trovarlo aperto A Riccione invece Così non era Perché appunto Apre nella giornata di domani Questo lo diamo Proprio come informazione La nostra analista Ci fa sapere Che un ascoltatore Ha chiamato Per precisare In riferimento Alle parole Del commissario Venturi Che la notizia Della cura Del plasma Al plasma Insomma Per quanto riguarda Il coronavirus Non gira solo sui social Ma ne hanno parlato Anche a Petrolio Programma Rai Autorevole È vero Sì sì Anch'io ho visto diverse Ma sono diversi Gli articoli Che Gli articoli Sia di stampa E quindi forse Vale la pena Magari cercare Qualche cosa Appunto su questo Ma come dice Il nostro ascoltatore Anche programmi televisivi Se ne stanno occupando In qualche modo Vedremo Io Soventuri Non l'ha escluso Dice Segnali interessanti Però Diamoci tempo Anche Questo un po' Era quello anche Che diceva Nelle sue Parole Nella sua riflessione Di ieri Allora Non so Poi possiamo andare A fare questa Telefonata Diciamo Per un appuntamento Che Vorremmo In qualche modo Proporvi Potrebbe essere interessante Una iniziativa Del Rotary Club Rimini Riviera Per cui possiamo andare A cercare Il nostro ospite Tra l'altro È un collega Giornalista Collega Non so se lui Considerano i colleghi Perché lui comunque È caporedattore centrale Del TG1 Però Vabbè Siamo colleghi Siamo iscritti Allo stesso ordine Professionale Diciamo così Chiaramente Sto scherzando Anche perché Se abbiamo La possibilità Di metterci in contatto Con lui Non lo facciamo Per parlare Di emergenza E quant'altro Però invece Di una sua Grande Di una grande passione Soprattutto di un Di un libro Che È stato È stato scritto Perché Insomma c'è una Questa serata Che si chiama Giovanni Gregorio E il Malatesta Da Rimini A Costanza Storia di papi E antipapi Una serata Dicevamo Organizzata Dal Club Rimini Riviera Insomma Che tra l'altro È legata ad un periodo storico Molto particolare Che E la storia Sempre rimanda Anche a quello Che succede Poi nell'attualità Perché torniamo Al tempo Dello scisma D'Occidente Ma ne vogliamo parlare Appunto con Mario Pirignano Che è il caporedattore Centrale Alla TG1 Buongiorno Mario Bentrovato Buongiorno Grazie Grazie Ben trovati E grazie Grazie della disponibilità Noi ti abbiamo presentato Come un collega Noi sai Rispetto Sì vabbè Noi facciamo il nostro piccolo Però insomma Diciamo che tu sei In qualche modo Oggi ti leghi a Rimini Perché Appunto Una grande passione Non solo per il giornalismo Ma anche per la storia Che ti ha portata Ad approfondire Un tema Che ci riporta indietro Ma come io dicevo La storia in realtà È maestra È maestra Anche per quello Che accade Nell'attualità Diciamo che c'è stato Un periodo Soprattutto per la chiesa Che tu Questa sera Via zoom Perché adesso è possibile Farli solo così Gli incontri Insomma Affronterai Grazie anche poi Al contributo All'intervista Che ti farà Un nostro amico Anche di tempo reale Che è lo storico Dell'arte Alessandro Giovanardi Ma proviamo ad entrare In questa Insomma In questa Italia In questo in realtà Non è solo l'Italia Perché stiamo parlando Del papato Del fine del 1300 Siamo a seconda Metà del 1300 Sì Probabilmente È il periodo Più burrascoso O sicuramente Uno dei più burrascosi Della storia della chiesa Quando i papi Che si contendevano La tiara Ce n'erano addirittura Eh beh Adesso ne abbiamo solo due Cioè Voglio dire Niente Al confronto Grazie a Dio Insomma Convivono Più che pacificamente I nostri sì In effetti Ecco Detto questo In effetti L'aggancio con l'attualità C'è però Perché Il periodo di cui Parleremo stasera E si riferisce All'ultima volta In cui nella chiesa Ci sono stati Diciamo C'è stato più di un papa Contemporaneamente Ecco Parliamo appunto Del periodo Tra il 1378 E i primi Del 1400 1415 1415-17 Al tempo del concilio di Costanza Perché c'entra Rimini Perché a Rimini Gobernava all'epoca Un signore Poi La cui fama È stata Giustamente Lelitalmente Oscurata Dal suo nipote Sigismondo Pandolfo Il grande Sigismondo Pandolfo Questo signore Si chiamava Che era Dio di Sigismondo Si chiamava Carlo Malatesta E Carlo Malatesta Fu Fra Diciamo I signorotti Principotti Del tempo Quello che Ebbe più lungimiranza Perché sostenne In maniera Incrollabile Dal principio Fino all'ultimo Quello che poi La Chiesa Ha riconosciuto Come papa legittimo Questo Gregorio XII Che quindi Non a caso Si rifugiò Da lui A Rimini E visse A Rimini Per qualche tempo Ma Malatesta Non si limitò A essere Il suo più grande Acceso Convinto E ostinato Quasi sostenitore Nella politica Europea del tempo Ma ebbe Anche un ruolo Fondamentale Nella soluzione Dello scisma E di questo Parleremo stasera Se voi te l'anticipo Faccio un po' di spoglia Fai un po' di spoglia Sulla storia Si può fare Direi Sì Ormai È come si suol dire Acqua passante Sì Tant'è che Gregorio XII Incaricò Carlo Malatesta Di recarsi Fino a Costanza Sulle rive Del lago di Costanza In Germania Dove si stava tenendo Un concilio Importantissimo E decisivo Per la Per la storia Dello scisma Nel 1415 Incaricò Carlo Malatesta Di andare a Costanza A rinunciare Al pontificato In suo nome Praticamente Secondo qualche fonte Addirittura Malatesta Si presentò Al concilio Di Costanza Che radunava Tutta Diciamo L'universalità Della chiesa Del tempo Ma anche Poteri secolari Università Eccetera Secondo qualche fonte Addirittura Si presentò Vestito in abiti Pontificali Lo ritengo Piuttosto in dubbio In ogni caso Andò lì E a nome Del Papa Che ripeto Poi la chiesa Riconosciuto Come legittimo Secoli dopo Rinunciò Al pontificato E in questo modo Risolse lo scisma Perché poi A cascata C'era già stata La deposizione Di un altro Degli altri due Uno dei due Contendenti Gregorio XII Quell'altro Poi fu abbandonato E così La chiesa Ritrovò l'unità Insomma Una storia Singolare In cui Rimini Ha avuto una parte Che forse Non tutti conoscono Però diciamo Anche Mario Emerge una capacità Diplomatica Di questo malatesta Non indifferente Che insomma Quando soprattutto Per la chiesa Era una questione Preminentemente politica Anche quella del potere Di chi era il Papa Dove si trovava la sede Se in Francia O appunto a Roma Diciamo che Era fondamentale È stata fondamentale Comunque questa capacità Sì sì Beh lui Lui era Intanto Era un capitano Di Ventura Quindi Anche un soldataccio Piuttosto temuto E rispettato Era molto forte Come soldato Di Ventura Ma era anche Quello che potremmo chiamare Un principe illuminato Amante delle arti Della retorica Cioè per lui Non fu sufficiente Andare A Costanza E leggere La formuletta Per così dire Che gli aveva scritto Gregorio Il Papa Gregorio Per rinunciare Ma ritenne giusto Allacciare O rinsaldare Rapporti Con i francesi Che odiavano A morte Gregorio XII Perché avevano Sponsorizzato L'elezione Di un altro Papa Con Gli stessi italiani Che sostenevano L'altro Papa Giovanni XXIII Che già era stato Deposto E quindi avevano Il dente avvelenato L'imperatore Del servono Impero Sigismondo Potentissimo E temuto Col quale Per la verità Poi Carlo Stesse un rapporto Importante E anche Diciamo Vantaggioso Per lui Gli inglesi Tedeschi Insomma Fu veramente Al centro In qualche modo Senza volere esagerare Della diplomazia europea Di quel momento Lì E ripeto Col suo Con il suo Sauerfer Con la sua Intelligenza politica Con la sua arte Diplomatica E anche con la sua Oratoria Perché era uno Che Era uno Che ti rigilava Da frittata Come diremmo oggi Sapeva veramente In un talk show Non avrebbe avuto rivali Diciamo così Almeno a leggere le fonti Ecco Riuscì veramente In un'impresa Della quale la chiesa Deve anche ringraziare In parte lui E vedi E questo pezzo di storia Che passa da Rimini Molti forse Non lo sapevano Perché noi effettivamente Da riminesi Forse Siamo più affezionati Tra Insomma Tra i vari malatesta A Sigismondo Per quello che ha anche Lasciato al nostro territorio Però effettivamente Sapere che aveva uno zio Così scaltro E anche diplomaticamente Così affascinante Può essere Molto utile Mario ma io Ti faccio una domanda Come mai ti sei appassionata A questo periodo E soprattutto Lo hai letto da giornalista Cioè quindi sei entrata Nelle maglie della storia Con il piglio Della curiosità tipica Del giornalista Alla ricerca di notizie Come ti sei avvicinato Poi la passione Della storia È da sempre No guarda È proprio così Hai centrato il punto Allora intanto Vabbè c'è Un colpevole Tra molte virgolette Di questa mia passione Che si chiamava Bartolomeo Prignano E fu papa All'inizio dello scisma D'Occidente Il mio antenato Ah ecco Pure un papa Tra nella genealogia Eh sì Fu quello che Una volta eletto Venne ripudiato Dagli stessi cardinali Che lo avevano scelto Quindi Gettando la chiesa Nello sconcerto In una confusione Massima Perché gli stessi Che l'avevano eletto Decisero Dopo qualche mese Che si erano sbagliati Nell'essero un altro E da lì scoppe lo scisma D'Occidente Quindi Non ti nascondo Che da lì è nata Un po' la mia rossa Poi certo Io faccio dimensione Il giornalista Per cui La curiosità E la molla Che mi Che mi porta avanti Diciamo così E rispetto a questa storia Quindi su Su Urbano VI Quel papa lì Avevo già scritto una storia Però poi Un libro Poi però Mi hanno raccontato Di questo Giovanni XXIII Perché Carlo Malatesta È importante Ma Il libro In cui parlo Molto Di Carlo Malatesta In realtà Si occupa soprattutto Di Giovanni XXIII Che è il terzo Dei papi Che intendeva Risolvere Facendosi eleggere Lo scisma Ma in realtà Lo complicò enormemente Perché insomma Con tre papi Tu capisci La chiesa Andò a gambe all'aria Per quasi 40 anni E io mi ci sono avvicinato Veramente con la curiosità Di scoprire dettagli Sensibilità Curiosità Proprio C'è la vita Nelle fonti Che non è difficile Consultare Nelle fonti del tempo Non è difficile Consultare Perché È un po' Un gioco enigmistico Saper leggere Le carte del Quattrocento Un po' come Non so Le parole Crittografiche Anzi Come Non so Diventare un po' Pratici Di Della scrittura Di una scrittura Che magari Non ci è molto affine Però una volta Che ci hai fatto l'occhio Come se fosse la stenografia Ecco A quel punto scopri Che Che ci trovi Veramente di tutto Dentro Ci trovi Le sensazioni Gli errori Ci trovi I discorsi In forma diretta Ci trovi la vita E perché non raccontarla In quei termini Lì Insomma Mi sono divertito Tanti Diciamo che L'unica cosa Che rientra In questo periodo Così di emergenza È il fatto che questo incontro Non potrai venire a farlo a Rimini Ma lo farai su Zoom Purtroppo È l'unica cosa Veramente triste È non poter venire a Rimini Credo Mario Con Alessandro Con Alessandro L'avevamo programmato Da Forse prima di Natale Il gennaio E mi pregustava Il momento di venire Gio a Rimini Dove torna sempre Con grandissimo piacere Grandissimo piacere E vabbè E niente Per ora Voglio farlo così Poi magari ci Ci saranno altre occasioni Assolutamente Anche perché ormai Si fa tutto su Zoom Anche noi giornalisti Abbiamo cominciato A fare le conferenze stampa Tramite Zoom O altre piattaforme Per cui insomma Dobbiamo prenderci un po' Anche le misure Come mestiere Probabilmente È vero Hai ragione È proprio così È proprio così Bene Comunque noi ti aspettiamo In qualche modo Almeno virtualmente Questa sera a Rimini Grazie a questo incontro Organizzato da Rotary Club A Rimini Riviera Ricordiamo appunto Insieme a Mario Prignano A dialogare Su questo affascinante Periodo storico Che riguarda anche La nostra bella terra riminese Ci sarà lo storico Alessandro Giovanardi Mario Grazie intanto Speriamo poi Un giorno Che tu possa Entrare Nei luoghi malatestiani Raccontare Questo pezzo di storia Anche direttamente Nei luoghi Che l'hanno visto Realizzarsi Sarebbe bellissimo Buona giornata Grazie 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 anche a voi Una bella proposta Secondo me Se questa sera Avete un po' di tempo La possibilità Alle 21 e 15 21 e 15 21 e 15 Questa bella iniziativa Insomma Si fa tutto su zoom Si fa tutto su zoom Tranne Le vacanze È difficile Quelle non C'è qualcuno Che ci sta pensando Però non mi sembra Che funzioni Non è Non è la stessa cosa Tra l'altro ieri Proprio su questa cosa Delle vacanze Andrea È uscita fuori Un'altra Insomma abbiamo parlato Anche di tante iniziative Che vengono messe in atto Sondaggi che vengono fatti Ieri ad esempio Leggevo di questa iniziativa Di Infoalberghi Anche loro sono praticamente fermi Perché diciamo Che le prenotazioni Anche perché Per quando prenoti Visto che non sai Quando il turismo Ripartirà Però appunto Dicevano che hanno creato Proprio un'area Del loro portale Dedicata alle informazioni Nel senso che In questo momento Da tutte parti d'Italia Forse anche non solo dell'Italia Ma diciamo Concentriamoci un attimo Sul turismo nazionale Arrivano le domande Ma quando si riparte Quando si potrà prenotare Se io prenoto Poi però c'è un problema All'ultimo minuto Posso rinunciare alle vacanze Ho delle penali da pagare Insomma c'è tutta una schiera Di domande Non so Se subito arrivano le risposte C'è tutta una schiera di domande Poi non c'è tutta una schiera Di risposte Però insomma Intanto iniziamo Con una delle due parti Stavo appunto dicendo Questa cosa Per cui Vabbè Ci sta anche Questo Dalla regione invece È arrivato ieri sera Il resoconto Del trasporto pubblico locale In questa prima Giornata di avvio Insomma quella di ieri Della fase 2 Con l'assessore competente Corsini Che ha detto Che è stata una buona partenza Sono stati monitorati 33 treni Insomma quelli regionali Dove c'è stato Un carico medio Di 52 persone Ben al di sotto Dei posti disponibili Con corse dei treni Aumentate del 60% La riorganizzazione Delle procedure Di salita e discesa Dai mezzi Sono state anche Intensificate Ricorda la regione Le operazioni di pulizia E sanificazione E naturalmente A bordo Sia dei treni Che del trasporto pubblico locale Quindi parliamo di bus E quant'altro E sono obbligatorie Le mascherine Come in tutti i posti Chiusi E il rispetto Delle distanze Di sicurezza Tra l'altro Ci sono i facilitatori Ieri appunto Il gestore Del trasporto pubblico Locale Del nostro territorio Non solo Di tutto il bacino Romagna Appunto Ha fatto anch'esso Un primo bilancio Di questa fase 2 Dell'inizio Di questa fase 2 Non ci sono stati Particolari assembramenti Ci chiediamo Se effettivamente In questa fase Magari ci siamo Un po' più di circospezione Nel utilizzare Il mezzo pubblico Non lo sappiamo C'è chi chiaramente Lo utilizza Perché è necessitato A farlo Altri magari Se possono Non so Scelgono una bicicletta Un motorino La macchina Quindi non ci sono stati Chissà quali assembramenti Anche perché Le regole Per l'ingresso Sui mezzi pubblici Chiaramente Hanno delle prassi Molto specifiche Anche su come si entra Su come si esce Come ci si deve stare All'interno Però Ecco Start Si è dotata Di facilitatori Tra l'altro Ne ho visto uno ieri Passando davanti Ad una fermata del bus Con una pettorina Con una scritta Facilitatore No aveva una pettorina Arancione Con su scritto Start E si vedeva chiaramente Essendo fuori Dai mezzi che passavano Era lì per dare Le informazioni Quindi per aiutare Probabilmente le persone Anche a salire Nel modo corretto E a forse anche Sentirsi più sicuri Sui mezzi pubblici Comunque approfondiremo Il tema Degli facilitatori? No dei facilitatori No però Dei mezzi pubblici Sì perché Vogliamo andare a vedere Come funzionano Ieri invece è arrivato Sempre collegato All'attuale emergenza Non nota Della fede del consumatore Emilia Romagna Che fa presente Come sempre alla luce Di quanto reso noto Dall'Istat In questo caso Sul carrello Della spesa Si sia registrato Un aumento Molto preoccupante Da certi punti di vista Dell'inflazione Dei prodotti alimentari In particolare Quelli freschi Hanno registrato Nel mese di marzo Un aumento Nel mese di aprile Un aumento Del 4,9% Contro lo 0,7 Generale Un dato Molto diverso Da quello Del cosiddetto Carrello della spesa Che con aprile Sale comunque Di un pesante Più 2,8% E quindi Federe consumatori Chiede proprio La regione Di farsi un po' Da tramite Anche per cercare Di normalizzare Questa situazione Proprio la filiera alimentare Sarà al centro Della prossima puntata Di dentro al consumo Giovedì mattina Tra l'altro Con l'intervento Anche Di un personaggio Molto Molto noto Che ha scritto Proprio Un libro Sulla filiera Alimentare Il grande carrello Se non sbaglio E' vero Si si mi pare Si chiami così Il libro Esatto Quindi lo intervisteremo Proprio a seguito Della trasmissione E poi ve la proporremo A seguito di questa trasmissione Perché alle 11 Abbiamo l'appuntamento Anche perché Insomma su questo aumento Allora intanto Chiediamo anche ai nostri Ascoltatori Se effettivamente Hanno notato L'aumento Di chi fa la spesa Quotidianamente Se soprattutto nel fresco Io sinceramente Ero lotato Però mi chiedo sempre Un po' se le variazioni Da che cosa sono dato Perché se è vero Che per altri prodotti Introvabili Magari c'è un problema Proprio della domanda Della offerta E sappiamo come funziona Il mercato La filiera agroalimentaria Continuata a lavorare Sempre nelle medesime modalità Non ci sono i lavoratori Che cos'è che fa Aumentare il prezzo Probabilmente il tuo ospite Saprà anche rispondere A queste domande Fabio Ciconte Esatto E poi avremo anche Una diciamo Panoramica più dettagliata Su una determinata Tipologia di commercio Quindi con Una dei responsabili Del Pachamama Per capire anche loro Come si sono Organizzati In questo particolare Periodo di emergenza Non deve essere facile Su quello che Vi proporremo Giovedì mattina L'ultima cosa Invece che vorrei Proporre oggi Perché siamo mai in conclusione No di già Ah non so Se tu hai altre cose Io volevo andare Sulla pagina facebook Del ministero della salute Chiedendo al nostro Matteo Munaretto Di staccare Cosa ci dice Speranza? No Speranza non ci dice niente Ma è stato diffuso Un video Un video legato A questa fase Per spiegare bene Come utilizzare Le mascherine L'hai visto Quindi adesso tu sai tutto Quello che c'è da sapere E adesso se riesco Faccio partire il video Con i tempi appunto Del computer Che ho qua Ma non smetti Di criticare la tecnologia E beh è stato preso Un modello E1 e2 e3 Questo è e-1 Quindi è quello Non è pronta la fase 2 Il computer No non lo è mai stato Un sorriso può dire tante cose Migliorare la giornata Emozionare Oggi però è necessario Proteggerlo con una mascherina Questo è il nuovo modo Di dire ti voglio bene Lava le mani prima di indossarla E utilizza solo gli elastici O le stringhe Senza toccare la parte centrale Copri bene bocca Naso E mento Indossala in tutti i luoghi Chiusi e accessibili Al pubblico E all'aperto Quando non sei sicuro Di poter mantenere le distanze Anche quando la togli Non toccare la parte esterna E lava bene le mani Una precauzione semplice Per proteggere la tua salute E quella degli altri Per tornare tutti insieme A sorridere Attenzione Anche se indossi la mascherina Mantieni sempre la distanza Di almeno un metro E cura l'igiene delle mani Però Ministero non ci dice Se con la mascherina Quante volte la posso mettere No Stava ripartendo Perché è ripetita La puoi usare la seconda volta Esatto Come il video Riparte Ci aveva spiegato Mignani Come si potevano pulire Ricordiamolo Andrea Credo che sia molto utile Un nebulizzatore Con dentro una soluzione Al 70% di alcol Esatto Spruzzarla Che anche quello È abbastanza introvabile Però diciamolo Si può fare Insomma da sempre No si non la soluzione L'alcol Spesso non si trova Così mi hanno detto Almeno i beni informati Come Matteo Monaretto Che è alla ricerca Di tutte queste soluzioni Per tutelarsi Lui è un facilitatore Il nostro facilitatore aziendale Guanti, mascherine E alcol Spruzzare Con questo nebulizzatore Lasciarla asciugare Non al sole Possibilmente Non con fono Altre cose Appoggiarla da qualche parte Dopodiché può essere utilizzata Non in eterno Comunque Insomma Qualche volta in più Rispetto all'usa e getta Esatto Diciamo che la buona prassi Di utilizzarla bene Quindi non strofinarla Non mettere le mani Sopra il volto Cosa che invece Magari in molti fanno Utilizzare solo gli elasticini Per metterla Toglierla E lavarsi prima E dopo le mani Può essere il corretto uso Che ci permette Di utilizzare la mascherina Qualche volta in più È chiaro che Dovrebbe essere Igenizzata Ad ogni Ad ogni uso Almeno quello Insomma Credo che sia fondamentale Poi è chiaro che Insomma Bastano queste mascherine Come vedete Anche nello spot Non è necessario Prendere chissà Quali tipi di mascherine Nel momento in cui Tutti siamo dotati Anche di una semplice Mascherina chirurgica Le ultime due cose Al volo Ieri è arrivato Un ennesimo appello Da parte di un esponente Della sanità locale In questo caso È il dottore Matteo Ridolfi Che è Un medico Della terapia intensiva Di Rimini Anestesista E rianimatore Lui dice Il covid-19 Non è ancora Stato sconfitto Solo il distanziamento sociale Rappresenta l'unica misura Veramente efficace Può dare a noi sanitari Impegnati in prima linea Il tempo Per curare Al meglio Tutti Un altro picco di contagio Come quelli di due mesi fa Non sarebbe più Affrontabile Con efficacia E affida Ai social Una foto Una sua foto In una Sala operatoria O meglio Una sala Restituita Alla attività Alla sua normale attività Dell'ospedale infermi Perché in precedenza Sappiamo che molte Sale operatorie Erano state Riconvertite A terapia intensiva Nel momento di picco Della Della malattia Tra l'altro Appunto Il dottore Ridolfi Dice Da oggi Cioè dalla giornata di ieri Questi Questi luoghi Tornano a fare Quello per cui erano Deputati Quindi sono sale operatorie Che tornano ad essere utilizzate Per quello E poi Dice Ai concittadini Che fremono Per andare al mare Si lamentano Nei divieti Che ancora li fermano Dico Tenete botta Il mare manca anche a me Non sapete quanto Ma se sarete bravi voi E saremo bravi noi Al mare Ci andremo presto Tutti E sarà ancora più bello Beh mi sembra Un ottimo messaggio Quello lanciato Quello che mi fa Che mi colpisce È la Da tutti questi messaggi Da tutti questi appelli Che stanno arrivando Da esponenti Del mondo della sanità Da persone che In prima linea Hanno combattuto Il virus In questi due mesi Emerge una grandissima Preoccupazione Per questa fase 2 Siccome Che penso Sia un po' Una risposta A quanti Si chiedono Ma perché Non sono state fatte Più riaperture E quant'altro È vero che la politica In questo momento Ha il compito Di fare sintesi Di quelle che sono Da una parte La spinta dell'economia E da una parte La spinta della salute pubblica Però la salute Dovrebbe essere Un passo in avanti Rispetto a tutto Anche perché Dalla salute Poi lo diceva anche Il sindaco Giorgetti Che abbiamo sentito Nella prima parte Di trasmissione Dalla salute E dal fatto che Questa curva epidemiologica Non risalga Dipende anche L'economia Riaprire Quando poi La prospettiva È quella Di un picco nuovo Di contagi Di una nuova chiusura Non servirebbe Neppure alle attività Che in questi mesi Hanno fatto tanti sacrifici Esatto Diciamo fidiamoci Anche di coloro Che sono lì Da tempo Da settimane Perché sono i primi Ad avere toccato con mano Quanto sia Virulento E complesso Puoi gestire Questo virus Nel momento In cui c'è Credo che sia importante Appunto In questo momento In particolare Fidarsi di qualcuno Non si può pensare Insomma Non siamo tuttologi No Ognuno di noi Può avere la sua opinione No Allora noi cerchiamo Di evitare anche Proprio questa C'è chi è deputato A prendere delle decisioni Lo fa Ci auguriamo a tutti Nella Con le competenze Necessarie E quindi fidiamoci Allora guarda Tu hai ancora delle notizie Sì perché volevo rispondere Poi ti lascio parlare Alle tante sollecitazioni Che ci sono arrivate Negli ultimi giorni Dando una notizia La notizia è che Riapriranno le case dell'acqua È vero Perché abbiamo anche un ascoltatore Che ci ha più volte Interpellato a tal proposito Riapriranno nel comune di Rimini Ma non solo Dalla giornata di mercoledì Perché in questi giorni Sono in corso Delle sanificazioni Quindi le sette case dell'acqua Riminesi Del comune di Rimini Riapriranno Così come quelle Delle altre realtà Adesso è arrivata una nota Anche da Sant'Arcangelo Io l'ho vista da Sant'Arcangelo Esatto Magari fate attenzione Sentite bene con il vostro comune Se effettivamente Sono state riaperte Perché come sappiamo Queste sono decisioni Che vengono prese Dei singoli comuni Sono arrivate dal comune di Rimini I chiarimenti Si partirà domani A Sant'Arcangelo Invece si parte da oggi Quindi chi è Insomma Chi vuole Può recarsi lì Naturalmente Nel rispetto Di tutte quelle Che sono le misure Di sicurezza Che vengono richieste In questo momento Quindi può accedere Una persona alla volta Con mascherina Bisogna stare attenti Anche ad avere le mani pulite Cinzia ci scrive Invece una cosa Dice Volevo chiedere informazioni Per quanto riguarda Il recupero di libri Ed effetti personali Che mia figlia Ha lasciato in un appartamento Di Urbino Dove studia Sapreste dirmi Se è possibile andare A prenderli Così Nell'immediato Nell'immediato Cinzia Verrebbe da dire di no Perché questo è un Spostamento Tra regioni A meno che non sia Una cosa di necessità Ci sono dei libri Che sono necessari Per lo studio Di un esame Che deve essere sostenuto Però insomma È una situazione Come abbiamo detto Più volte borderline Quindi bisognerebbe fare Un approfondimento Con le forze Dell'ordine Magari chiamando Anche un posto Di polizia locale Sempre che loro Possano dare Certezze A tal proposito Perché si tratta Di uno spostamento Da una regione All'altra Per accedere Ad una abitazione E prendere Dei libri Esatto Ci dispiace Non poterti dare Nell'immediato Una risposta Proveremo ad indagare Magari seguici Anche nella giornata Di domani Nei prossimi giorni Cercheremo di capire Se è possibile La cosa che mi sono chiesta Andrea Ma così però Come battuta Abbiamo visto che Nei giorni scorsi C'era anche il grande tema Non solo dei confini Con le Marche Ma anche ad esempio Con San Marino Ecco San Marino Appunto un paio di giorni fa Qualche giorno fa A fine settimana scorsa È stato detto Che era ricompreso Nel territorio Della provincia di Rimini Quindi valgono Anche gli spostamenti Sul territorio di San Marino Quali esattamente Sono quelli che valgono Per la provincia di Rimini Ieri San Marino È stato ricompreso Anche nella regione Marche Perché chiaramente San Marino Ha anche confini Sulla regione Marche Quindi un San Marino Non si può dire Cosa deve Può fare un San Marinese Ma soprattutto Un Riminese Che ha bisogno Di andare nelle Marche Io lascio solo Questa indicazione Non credo Penso che vengano Verificati i documenti Se arrivi da Rimini E vuoi andare a Pesaro Passando da San Marino Chi abita a San Marino Può andare in tutti e due Può sia spostarsi Verso la regione Emilia Romagna Che verso la regione Marche Quindi se uno conosce Qualcuno di San Marino Che può andare a recuperare Una cosa ad Urbino Magari lui può andarci Non so se rientra Comunque lo spostamento Deve essere sempre giustificato E vabbè Allora io do dei consigli Lo so ma tu devi dare Dei consigli A regione veduta Non sono possibili Questi consigli Infatti però diciamo Che effettivamente San Marino è stato Ricompreso anche Nella regione Marche Al volo Andrei Invece vorrei Abbiamo un ultimo Non è un servizio In realtà è solo Un piccolo flash Di una trasmissione Diciamo è una trasmissione Ma in realtà è una cosa Che abbiamo iniziato a fare ieri Perché tutti i giorni Dal lunedì al giovedì Non l'abbiamo fatto prendere Alla regia Lo prendiamo dal telegiornale di ieri Possiamo mettere un arretto È l'unico servizio Che non abbiamo preso Volevo semplicemente Rilanciare questo appuntamento E quindi facendolo Anche con proprio Una clip velocissima Perché ieri Abbiamo già avuto insomma Un buon feedback Su questa prima trasmissione Perché in tutti i pomeriggi Alle 18.30 C'è la possibilità Di coloro che lo desiderano Pregare insomma Il rosario insieme Mese di maggio Da tantissime persone C'è arrivato questo desiderio Di poter continuare A pregare insieme Al nostro vescovo O comunque alle nostre Comunità religiose E ieri siamo partiti E siamo partiti Dal Dal santuario Di Santa Chiara Quindi siamo nel centro storico Di Rimini Che continuerà Ad aiutarci a pregare Fino a giovedì Ma vi proponiamo Proprio una clip Velocissima Insomma di quello che è il rosario Insomma sappiamo tutti Come funziona un rosario Sorelle e fratelli Benvenuti Alla recita Del rosario Oggi Contempliamo I misteri Della gioia I misteri Gaudiosi Li ripercorriamo Brevemente Sono i misteri Dell'annuncio A Maria La rallegrata Dal signore Dal signore L'annuncio Da parte di Gabriele Che Maria Sarà la madre Del figlio di Dio Ci troviamo Nel santuario Madonna della misericordia In Santa Chiara E quest'anno Ricorre Il centosettantesimo Anniversario Del prodigio Degli occhi Di Maria Ci troviamo In questa situazione Particolare Che chiediamo a Maria Che ci guardi Ancora Muove i suoi occhi Verso il suo popolo Che siamo noi E soprattutto Interceda Presso il Padre Misericordia Per questi momenti Che stiamo vivendo O Dio Vieni a salvarmi Signore Vieni presto In mio aiuto Gloria Al Padre E al Figlio E allo Spirito Santo Come era nel principio E ora è sempre Nei secoli Dei secoli Amen Primo mistero Gaudioso Contempliamo L'Angelo Gabriele Va a trovare Maria Come vedete Tutto fatto nel rispetto Anche delle norme Sono frati Che insomma Frati sacerdoti Che ci stanno aiutando Però sono pochissime Le persone Però questa possibilità Quindi tutti i pomeriggi Alle 18.30 Su Icaro TV Per chi non riuscisse A quell'ora C'è anche la replica Alle 20.30 Sul nostro canale 211 Piccolo commento Del Vescovo E poi la recita Del Rosario Case dell'acqua Che riaprono oggi È arrivata una nota Adesso anche Nel comune di Coriano Case dell'acqua E Casa del Sapone Che invece sarà attiva Da lunedì 11 Quindi da oggi Casine dell'acqua Attive a Coriano E Sant'Arcangelo Queste le notizie Che abbiamo Da domani Anche a Rimini E a Coriano Dall'11 maggio Anche la Casa del Sapone Tutti gli impianti Saranno appunto Sono stati sanificati Prima della riapertura Come previsto Anche dalle norme Bene benissimo 10.45 minuti Che stanno per scattare Arriviamo in conclusione Anche di questa Seconda mattinata Della fase 2 Adesso io le conto così Ah va bene Da poi va benissimo Giorno 2 fase 2 Giorno 2 fase 2 Noi ci ritroviamo domani Ma dopo quando c'è la fase 3 Partiamo da zero Un'altra volta Certo Domani siamo insieme Per il giorno 3 fase 2 Va bene E basta E basta Voi continuate a scriverci A chiamarci Noi saremo felici Anche domani Di tenervi compagnia Buona giornata a tutti Tempo reale Tempo reale Locatop è noleggio di mezzi di sollevamento Per persone e materiale Piattaforme aeree semoventi su autocarro Sollevatori telescopici fissi e rotanti Autogru fuoristrada Locatop è vendita di mezzi di sollevamento Nuovi e usati Consegne e ritiri E assistenza in cantiere Corsi di formazione sulla sicurezza E l'uso delle attrezzature Locatop è presente a Misano e a Rimini Al 320 16 09 993 Ed altre 7 sedi in Emilia Romagna